In gloria e la benedizione del Signore su tutti voi, su tutti coloro che vi stanno a cuore, sulle vostre famiglie, ma in modo speciale, sui poveri e sofferenzi e sui tempestri. In nome del Padre e del Signore, per lo Spirito e del Santo Ecosia, e lo dà di Giuse Maria, oggi e sempre.